fratelli rossonieri amici rivali di youtube buonasera 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 prima di iniziare sponsorizzazioni io vivo e sempre insieme ai miei capelli tutti insieme io vivo e sempre insieme ai miei capelli io vivo ragazzi risultati per garantiti fra l'altro ho notato una cosa che adesso sono 70 giorni più o meno si sono 70 giorni che non non tocco alcol vi sto facendo una vita più che salutare e i capelli stanno ricrescendo ancora ancora di più sono rinforzati tanto perché comunque sia l'alcol lì si vibra qualcos'altro pure e anche se poco l'altro molto poco però l'alcol veramente tanto quindi il risultato è garantito non mi dite no mamma no è rasta il risultato è garantito garantito due anni e mezzo che li ho fatti non è sono soltanto che aumentati da quando li ho fatti soprattutto quando faccio una vita salutare non diciamo stronzate l'esempio qua da pelato andatevi a vedere video di quattro anni fa è questo magliette di che calcio 59 euro una maglietta in omaggio 99 euro 2 in omaggio 159 3 in omaggio 199 euro 4 in omaggio scontorasta 10% fate il vostro gioco fate il vostro gioco fate il vostro gioco fate il vostro gioco bene molto bene sono andato a vedere una partita oggi che ho fatto la live la live scusatemi la la storia su instagram stamattina sono andato a vedere la partita di promozione con tuo rispetto ma va bene che devono far giocare i giovani perché c'è regolamento se in campo di che hanno 20 anni non so una cagata pazzesca sto regolamento che poi arriviamo in serie a che non ce n'è con italiano tra parentesi che scarsità la promozione campionato di promozione ai miei tempi questa qua era forse una seconda categoria che si deve salvare forse forse una seconda categoria ma scarsi ma scarsi 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 per essere una promozione a parte due tre o quattro ne ho visti su 22 un po buoni il resto una pena umana per essere una promozione ragazzi ci credo che a livello calcistico l'italia non è che sta sfornando tutti questi talenti a se livello questo i giovani fa lì giocare con quelli un po più grandi già nelle categorie che cazzo vuol dire che devono giocare per forza loro normale che poi fanno giocare cani e poce che non è portato neanche già in promozione cioè ragazzi dai bisogna di 18 anni in eccellenza poi ci lamentiamo comunque vabbè lasciamo perdere livello italiano completamente scarso e oggi la loro festa oggi la loro festa io vado controcorrente non ci sto sinceramente a autoprendermi per il culo perché la penso così e questa qua non per le carico e l'interistia perché io questi sfottò che mi stanno facendo imparate da rasta questi sfottò che ci stanno facendo che sono che che ti danno ti danno la voglia ancora di seguire il calcio anche con amarezza con rabbia ti danno comunque una sensazione il non sfottò come quello che ho visto ieri ok famicizia con i gobbi pure perché ci filavano per il culo le nostre squadre a vicenda tutto quello che vuoi ma io sinceramente preferisco farmi una partita con i gobbi che ci dobbiamo giocare qualcosa contro l'inter che mi devo giocare qualcosa e che c'è un dento avvelenato fino all'ultimo minuto della partita fino all'ultima partita di campionato che una partita come quella di ieri che mi sono vergognato come gli ultimi derby dove ci hanno preso per il culo non c'è stata partita quindi gli sfottò devono aver ragione per farci crescere le spalle grosse così innanzitutto ok tenere duro e ricordarci ricordarci quando noi vinceremo quello che è stato perché loro sono stati zitti due anni fa se lo sono se non sono ricordata e adesso ce la stanno facendo pagare ma è giusto è il gioco del calcio se uno è una femmina che non accetta le provocazioni innanzitutto se una persona fragile e debole a livello calcistico non fa per te perché uno con i coglioni nella vita tutto accetta poi te la fa pagare dopo te la fa pagare sul campo con i fatti non con le parole cioè che oggi si dica possiamo festeggiare tutto tanto stanno festeggiando lo scudetto di cartone cartone o non cartone l'inter sta festeggiando più che lo scudetto di cartone perché si è resa conto che è una grandissima squadra che è una spanna troppo superiore alle altre in italia che poi in europa ancora l'ha dimostrato con l'atritico madrid per una partita su 32 parte su 38 40 mi sembro 41 perso 42 mi sa anche quindi naturalmente ci può stare di sbagliare una partita ok ma è comunque l'anno scorso è andato in finale di ha tenuto testa manchester city ragazzi ha tenuto testa ha giocato meglio che del real madrid ha giocato meglio che del real madrid ragazzi questa cosa qua è giusto ricordarla è giusto ricordarla faccio finta di non odiarli fra virgolette in termini cassi calcistico di aree ovviamente ovviamente perché tanto se non ci fossimo noi per loro loro cosa servirebbe cosa auto si servirebbero a nulla dico non ci sono i miei stia prendendo il pericolo come noi se non ci fossero interisti non lo seguiremo con questa passione il calcio come se non ci fossero i juventini non lo seguirei con questa passione il calcio cioè volevo farvi entrare nell'ottica comunque questa cosa naturalmente poi quando si gioca si gioca non con i pugni con i calci ma si gioca col pallone bello per terra che voglio vedere una bella partita di pallone non gli scempi che sto vedendo mica non riesco a vedere una partita bella neanche sapete le partite belle che sono andato a vedere dal vivo quelle di calcio a 5 quando andavo a vedere la serie b che purtroppo è mai più brava erano tutti i brasiliani argentini partite di a2 minchia lì c'era un ritmo partita una tecnica individuale che veramente dal vivo il calcio a 5 in televisione fa cagare dal vivo è uno spettacolo dello spettacolo credetemi se non avete un cazzo da fare un sabato pomeriggio per i giocanti sabato pomeriggio andate a vedervi se avete una squadra vicino al vostro paese di serie b o di a2 che anche lì mi ha detto che comunque anche lì l'ultimo anno è stato vedere il livello si era abbassato rispetto a quando giocavo io in categorie che contavano 10 12 anni fa si è molto abbassato in b per diritto non ho mai avuto la possibilità non ho mai avuto le potenzialità di andare in c1 anche vinta ma in b ragazzi livello era troppo alto se gioco se avrei giocato sarei sicura mi avrei giocato contro una squadra che mi avrebbe fatto una squadra che si doveva salvare che avrebbe preso un ci sono quelle due tre squadre che si devono salvare in serie b che prendono si prendono scopole a destra e a sinistra ho giocato una squadra così perché il livello di b veramente ai tempi era di livello altissimo ve lo posso assicurare detto questo quindi è la giornata dei cartonati così così si vogliono chiamare però è la giornata di quelli che si stanno meritando di esultare hanno alle spalle una società che noi non abbiamo vero abbiamo una spalla hanno abbiamo alle spalle una società di farlocchino loro invece hanno un direttore sa chi è vero sa che ha detto una cosa giusta se è sempre così se sempre se è vero quello che quello che ha detto che l'inter sta vincendo barando perché fare i debiti se se il regolamento fosse uguale per tutti ma l'inter fa i debiti ma le altre in europa che cazzo fanno allora ho la legge uguale per tutti perché allora il barcelona doveva già essere stromessa essere già retrocesso non so quanto ma che cazzo me ne frega me che fa i debiti a me interessano i trofei puoi fare tutti i debiti che vuoi preferisco fare un debito che poi ritero cedo due anni dalla c1 riparto che vinco in cinque anni vinco due o tre trofei che farmi dodici anni undici anni ancora a guardare come gli undici anni di inferno che ho fatto dal 2012 al 2000 al 2022 cioè non so se avete capito il concetto a me che falliamo a me non me ne frega un cazzo in particolare prima mi fai vincere i trofei poi posso anche fallire ti vado a tifare anche in c1 riparto da zero tanto comunque abbiamo un blasone abbiamo una grande città abbiamo una grande tifoseria ci sarà sempre qualcuno che ti va a prendere dalla merda comunque poi ti risolverà su l'ha fatto il napoli vincendo poi uno scusato dopo tanti anni che era retrocesso l'ha fatto il parma trovando su in serie a figurine se non possiamo fare noi ok quindi debiti non debiti voglio qualcuno che dei debiti se ne sbatte i coglioni dei debiti voglio uno che se ne sbatte i coglioni punto stop non me ne frega un cazzo del resto capitolo allenatore andiamo adesso adesso poi oggi già mi sono tirato un po su di morale perché già la notizia di l'opetegui già invece adesso bremo ci vuole per forza bam bom e comunque vedetevo in pace questa società qua ho paura che conte non lo voglia proprio ho questa paura che conte vuole il milan ma loro proprio sono impuntati perché conte un personaggio che va davanti questi qua hanno paura che conte vada davanti a una sala stampa e dica la verità e questo sarà l'altismo avete fatto un'ispirazione per il titolo del video questa società di merda ha paura che qualcuno vada dire la verità perché conte non è come ibraimovici comunque adesso dico il culo sulla poltrona ed un uomo di red bird ok conte via dal mina si trova un'altra squadra lo vuole va a napoli va dove cazzo vuole lo rivolgono alla juve se la trova una squadra ibraimovici comunque ha una certa antipatia verso gli altri come dirigente avrebbe una certa antipatia nelle altre squadre quindi se vuole fare una carriera dirigente per me lì ci deve stare cioè una una migliore che lo voglia all'inforo di noi non c'è invece conte è uno che arriverebbe lì e ti dice nero su bianco tutto quello che ti deve dire te lo dice tutto da dalla a alla z questa è la differenza è per questo è soltanto c'è soltanto una motivazione è questa vuole i giocatori c'è questa che direbbe tutte le tutto quello che non farebbe la società che lui chiederebbe lui te la dice sulla stampa te la dice sulla stampa ti mette la realtà nuda e cruda te la dice te la dice in faccia dopodiché ragazzi ci vediamo dopo le ore 21 in live vi mando un bacio un abbraccio ciao a tutti seguitemi su instagram i capelli i capelli i capelli ciao